Grazie, Laura Barbara è già qui, invito Barbara Carfagna a raggiungerci. Barbara, buonasera, benvenuta. Buonasera. Allora, come ho già detto prima, Barbara ha perso l'aereo e ne ha preso un altro pur di non mancare al nostro appuntamento. Credo che la conosciate tutti perché ha una carriera ampia e luminosa all'interno della prima rete televisiva della RAI, al TG1 e adesso con Codice, di cui è autrice e conduttrice, oltre a Podgas che ha citato prima con Massimo Cerofolini, insomma è qui con noi perché meritatamente da, non posso dire da tanti anni, perché se no dice tu fai lo spiritoso con una signora e non si fa. Allora dice, da molte settimane, Barbara conduce una battaglia vigorosa, un tentativo vigoroso di far capire le novità del digitale. Allora, come pratichi la comunicazione costruttiva in questa tua multiformatività che ti porta in giro per il mondo, perché poi vai sempre a vedere lì dove accadono le novità? Beh, anzitutto la chiave che ho utilizzato fin dall'inizio nella comunicazione del digitale, quindi inizio parliamo del 2008, su RAI1, quindi diciamo un canale generalista, abituato proprio a parlare a un pubblico completamente diverso da quello interessato generalmente alla tecnologia, ho praticamente cominciato dal fatto che la rivoluzione digitale non è una rivoluzione tecnologica o economica, come veniva raccontata fino a quel momento, bensì una rivoluzione umana. E quindi ho cominciato a spostare un po' tutti gli argomenti fin dall'esordio, perché ho cominciato in realtà con una rubrica la mattina su RAI1 che andava in onda il sabato alle 10, in quel momento tutti guardavano la televisione il sabato alle 10, c'erano dei momenti di massimo ascolto, in cui mi mettevo in un museo vicino a qualcosa che, per esempio, Galleria Borghese Davide Golia, e io praticamente riuscivo a spiegare gli hacker attraverso una scultura, quindi partivo dal passato e poi riuscivo a far capire la potenza, occorre il cambiamento o l'innovazione di uno dei temi digitali nel futuro. Forum, andavo nei fori romani, spiegavo perché si usava all'epoca la parola forum, per indicare i primi siti in cui si discuteva degli argomenti, eccetera. Poi questa chiave l'ho tenuta e ampliata, inserendo sì tutte le innovazioni tecnologiche ed anche i cambiamenti economici, soprattutto quelli politici, quelli sociali, però sempre tenendo al centro l'idea che il digitale è qualcosa che cambia noi, cambia il modo in cui percepiamo la realtà e cambia il modo in cui facciamo le cose. E quindi, avendo questa chiave, che poi è la chiave del digitale, tutte le innovazioni che sono venute dopo, si innestavano su un solco di qualcosa di già detto, perché affrontandolo da questo punto di vista il tema, è stato possibile anticipare anche l'intelligenza artificiale generativa, anticipare le primavere arabe, anticipare tutta la questione dei politici sui social. E chiaramente appena io vedevo che uno di questi temi, diciamo, filosofici barra sociali, approdava oppure si manifestava in un luogo del mondo, ecco lì che andavo in trasferta in quel luogo a far vedere dove le cose già avvenivano. E quindi questo mi dava il supporto video, che per la televisione è fondamentale, per poi rielaborare sempre questa comunicazione di come stavano cambiando le nostre relazioni e le nostre percezioni del reale. Poi è arrivato Codice, dopo un po' di anni, insomma, che già facevo questo lavoro per TV7, speciale TG1 soprattutto, quindi il reportaggio di un'ora, e a quel punto la cosa più bella è stata creare una squadra che è ancora viva ed è molto, diciamo, connessa, di persone in cui noi, diciamo così, veramente pensiamo tantissimo, anche quando il programma non è in realizzazione, cosa sta accadendo, sempre in questa chiave di grandi cambiamenti. E affrontando, diciamo così, sempre i cambiamenti da questo punto di vista, facendo questo brainstorming, con tante persone capaci, qui c'è anche oggi Alessio Iacona che, diciamo, è arrivato tra noi nell'ultima edizione, però sono tutte persone selezionate per passione e non per, insomma, appartenenze, insomma, tutti i criteri, diciamo, in cui poi in genere ci si ritrova in televisione a fare le redazioni. Quindi tutte selezionate per passione noi discutiamo tantissimo, abbiamo un mindset comune e quindi alla fine, quando arriva il momento di eseguire, diciamo così, il programma, sappiamo che ogni servizio verrà fatto con l'approccio che è l'approccio che è stato il nostro fin dall'inizio. Quindi la comunicazione costruttiva ha a che fare con non essere superficiali e andare a fondo delle cose e poi nel loro caso c'è anche la fortuna e la possibilità meritata sul campo, come abbiamo sentito, di poter andare là dove l'innovazione si concretizza o, meglio, ancora nasce e quindi poterla mostrare a tutti noi. Io direi, Barbara, 2024? 2024 speriamo che la RAI ci faccia fare anche un'edizione diciamo invernale di codice perché per ora è sempre primavera e estate e quindi di raddoppiare in qualche modo lo spazio e il tempo della trasmissione perché tutto sommato il successo della trasmissione è stato anche presentare delle persone che mai si erano viste prima. Parlo, per esempio, di Luciano Floridi che intervistai la prima volta nel 2011 che addirittura mi scrive non scrivere sotto filosofo se non scappano gli spettatori questo per far capirsi e quindi o Paolo Benanti che diciamo quando la prima volta è stato sul nostro palco diciamo così, televisivo neanche si occupava unicamente di questi argomenti cosa invece fa adesso e poi la società tutta dalle aziende alla politica e adesso anche internazionale perché Benanti è stato anche chiamato nella Commissione Nazioni Unite che ha riconosciuto l'eccellenza di tutti i componenti della redazione alcuni sono stati assunti in apparati sensibili dello Stato altri sono diventati consulenti di aziende importanti anche proprio per tutti noi e questo è stato un altro successo perché questo è stato il vero impatto sociale e quindi Barbara ma cosa hai scritto come sottopancia di Floridi? alla fine Università di Oxford ok allora un filosofo ok allora con questo mi sei arrabbiato moltissimo presumo ma oggi invece si potrà si deve si può scrivere liberamente e oggi insegnano nelle università di tutta Italia insegnero facendo vedere i pezzi di codice quindi sono su RaiPlay e anche su YouTube diciamo disponibili a tutti per fare sia formazione che accademia e quindi scatta meditatamente il momento premio ne facciamo un passettino in avanti ecco qui Barbara a posto Barbara grazie mille per essere arrivata nonostante il disguido aereo grazie mille